Eccoci qui come ogni anno con questo appuntamento fisso e probabilmente il più atteso per gli utenti Android al pari dell'annuncio dei nuovi iPhone per quelli Apple. Sto ovviamente parlando del lancio dei Galaxy S di Samsung che quest'anno vengono identificati con la sigla S24. Ma non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a scoprirli insieme. Come ormai da diversi anni a questa parte, Samsung porta sul mercato tre varianti dei suoi nuovi smartphone top di gamma S24, S24 Plus e S24 Ultra. In tutti e tre i casi parliamo di un perfezionamento dei prodotti dello scorso anno con variazioni leggere nella scheda tecnica e piccoli miglioramenti nella costruzione e nel design. Ma l'argomento su cui ha puntato la maggiore attenzione Samsung nella comunicazione legata ai nuovi modelli è senza dubbio l'intelligenza artificiale. Un'intelligenza artificiale che finalmente possiamo toccare con mano grazie a degli strumenti concreti e non solo a proclami evanescenti come eravamo abituati in passato. C'è quella predittiva della tastiera e delle app di messaggistica che consente di tradurre in tempo reale la conversazione in diverse lingue, italiano compreso, oppure quella generativa tramite cui possiamo dare allo smartphone e alla tastiera alcune indicazioni per scrivere un messaggio al nostro posto indicando argomentazioni e tono della conversazione, più o meno formale a seconda dell'interlocutore. Tra le funzioni che più mi sono sembrati interessanti c'è poi anche quella che permette di trascrivere una conversazione in tempo reale con tanto di riconoscimento automatico dei partecipanti e soprattutto con la possibilità di riorganizzare gli appunti e salvarli nelle note in maniera del tutto automatica, seguendo poi anche dei layout predefiniti per l'organizzazione degli appunti stessi. E mixando due delle funzioni appena descritte, ecco che abbiamo anche la possibilità di ottenere in tempo reale la trascrizione di una conversazione telefonica con traduzione istantanea della stessa. Insomma, prenotare il vostro tradizionale istorante giapponese a Tokyo non sarà più un problema. Non mancano poi funzioni di ottimizzazione della batteria e delle prestazioni, oltre che ovviamente l'intelligenza artificiale legata alle immagini e alla fotografia, sia nel momento dello scatto per l'ottimizzazione delle impostazioni che nella post-produzione, con la possibilità di ricreare l'effetto ritratto, migliorare l'illuminazione e rimuovere oggetti generando porzioni di immagine. E restando in ambito fotografico posso anche dirvi che le fotocamere sono sostanzialmente uguali a quelle dei modelli precedenti, almeno a livello di ottiche e sensori. La modifica più importante è probabilmente quella che interessa la fotocamera con teleobiettivo DS24 Ultra, che rispetto al precedente modello ha un ingrandimento che passa da 10x a 5x, ma con un sensore da 50 megapixel. Quindi, stando quanto dichiarato da Samsung, grazie a questa risoluzione più elevata e all'intelligenza artificiale avremo un 5x di qualità superiore rispetto a prima e un 10x digitale che sarà comunque paragonabile, se non anche migliore, a quello dello scorso anno. Pixel del sensore della fotocamera a tele che aumentano in numero ma anche in dimensioni per catturare più luce in notturno e avere così foto e video migliori nelle condizioni più complicate. Non manca anche un nuovo sistema di stabilizzazione più efficace e un nuovo ESP dedicato che permetterà di avere video ancora più stabili e fluidi. Fotocamera a tele DS24 Ultra a parte, che ha ricevuto, come già detto, un importante aggiornamento, tutte le altre accoppiate sensore ottica rimangono invariate rispetto all'anno scorso, sia sul modello top di gamma che per quanto riguarda S24 e S24 Plus. Foto e video che potranno poi essere visualizzate su un display che è ancora un Dynamic AMOLED 2x ma che è migliorato ulteriormente in termini di luminanza massima. Se da un lato abbiamo infatti una risoluzione identica, un refresh rate che ancora è dinamico da 1 a 120 Hz ma ora su tutti e tre i modelli, dall'altra parte parliamo di un picco di luminanza massima che può arrivare a toccare i 2600 nit con un incremento del 40% rispetto allo scorso anno. E se pensate che già con il modello precedente non avevamo alcuna difficoltà nella visualizzazione all'aperto è da dare per scontato che con questo nuovo display non ci saranno sorprese, anzi. Display che misura 6,2 pollici su S24, 6,7 su S24 Plus e 6,8 pollici su S24 Ultra. Come potete quindi intuire S24 e S24 Plus guadagnano qualcosa in termini di dimensioni del pannello pur mantenendo però dimensioni sostanzialmente identiche a quelle dei loro predecessori. Questo grazie a una grande ed evidente ottimizzazione delle cornici che porta a un effetto visivo davvero molto appagante. È praticamente tutto schermo, sembra di avere a che fare con prodotti totalmente nuovi quando in realtà è tutto conseguenza solo di un'ottimizzazione degli spazi che ora secondo me è giunta a un livello molto elevato e adeguato. Anche S24 Ultra pur mantenendo la stessa misura per la diagonale offre in realtà un pannello leggermente differente nell'esperienza d'uso sparisce infatti la curvatura dei lati lunghi e lascia posto a un pannello che è completamente piatto che Samsung ci tiene a sottolineare è frutto del feedback offerto dagli utenti in merito soprattutto all'utilizzo della penna e infatti come ampiamente pronosticato su S24 Ultra rimane anche la S Pen nella stessa posizione di sempre con caratteristiche del tutto similari a quelle del modello in uscita. Bene ma non abbiamo ancora detto che cosa troviamo sotto la scocca di questi nuovi Galaxy S24 partendo dal modello più alto in gamma ovvero S24 Ultra come cuore della soluzione abbiamo uno Snapdragon 8 generazione 3 in versione però 4 Galaxy ossia una versione ottimizzata e che sfrutta al massimo la camera di vapore che è raddoppiata di dimensioni rispetto allo scorso anno per riuscire a gestire frequenze leggermente più alte e offrire un'efficienza migliorata del 5% circa rispetto allo Snapdragon Gen 3 standard. Tutto questo accompagnato da 12 giga di RAM ed è uno storage che può variare tra 256, 512 giga oppure 1 terabyte. Gli altri due modelli S24 e S24 Plus arriveranno invece in Italia con processori Exynos nello specifico l'Exynos 2400 che è in realtà il chipset con cui verranno distribuiti in tutto il mondo al di fuori degli Stati Uniti dove invece avranno lo Snapdragon 8 Gen 3. Una Samsung che quindi torna sui suoi passi rispetto a quanto offerto lo scorso anno ma che allo stesso tempo dichiara di aver lavorato molto all'ottimizzazione di questo Exynos quindi di poter garantire su tutta la gamma un'esperienza del tutto simile a quella del modello di vertice. Si tratta di una scelta fatta principalmente per evitare gli shortage e quindi avere sempre S24 disponibili per tutti. Per S24 abbiamo poi una RAM da 8 giga e uno storage da 128 o 256 mentre il Plus si attesta su 12 giga di RAM e 256 o 512 giga di storage. Un altro fattore da non sottovalutare è poi quello estetico dei materiali. S24 Ultra infatti sarà il primo smartphone Samsung a offrire un frame in titanio saldato alla struttura interna che invece è in alluminio rinforzato. Nonostante l'utilizzo del titanio il peso del prodotto è rimasto lo stesso e anzi Samsung ha dovuto sottoporre il suo top di gamma a una cura dimagrante per ottenere questo risultato. Il titanio infatti è più pesante dell'alluminio utilizzato in precedenza per la cornice. Per quello che riguarda invece il vetro a protezione del display parliamo di un Gorilla Glass Armor con speciale trattamento antiriflesso mentre l'elettro è in Gorilla Glass Victus con finitura satinata. In generale parliamo di tre smartphone che trasmettono una sensazione davvero premium ma il salto più grande nell'esperienza d'uso in termini design e ergonomia si ha probabilmente con i due più piccolini ovvero S24 e S24 Plus che quest'anno più che mai sono davvero molto belli ed equilibrati. Stessa finitura anche per S24 e S24 Plus quindi sempre satinata nel retro che offrono però Gorilla Glass Victus sia davanti che dietro e mantengono lo stesso peso dei rispettivi predecessori. Un traguardo non scontato dal momento che entrambi hanno una batteria che è stata migliorata dal punto di vista della capienza. 200 mAh in più per S24 Plus e 100 per S24. Un dato che insieme all'aggiunta dei display e le TPO dovrebbe garantire anche un'autonomia migliore. Autonomia che rimane uguale su S24 Ultra così come resta identica la misura della batteria. Purtroppo non ci sono novità da segnalare nemmeno per quello che riguarda la ricarica che rimane la stessa potenza dello scorso anno e quindi 25 watt per S24 e 45 per Plus e Ultra con ricarica wireless a 15 watt per tutti. Peccato davvero su questo aspetto avrei sicuramente apprezzato uno sforzino in più ecco. Sforzo che invece c'è stato ancora una volta lato software e in particolare nella collaborazione con Microsoft. Samsung ha infatti dichiarato che il suo sistema di trasferimento file diventerà lo standard per il trasferimento file da Android a Windows. una novità davvero importante e che di fatto consegna nelle mani degli utenti Android il proprio airdrop. Bene ma quanto costano questi nuovi Galaxy S24 e quando saranno disponibili? Il preordine parte oggi 17 gennaio durerà fino al 24 gennaio momento dal quale è previsto l'inizio della distribuzione vera e propria. In termini di prezzi si parte invece da 929 euro per l'S24 in versione 128, si sale a 989 per quello da 256, S24 Plus costerà invece 1189 nella versione da 256 e 1309 in quello da 512. S24 Ultra è ovviamente quello più costoso con un prezzo di 1499 per la versione da 256 giga che sale a 1619 per il 512 e 1859 per il modello da un Tera. Ovviamente non mancano le promozioni al lancio ma per tutte le informazioni aggiuntive vi lascio agli articoli pubblicati su HDblog. Io vi saluto, se vi è piaciuto lasciate un bel like qui sotto, fatemi sapere anche nei commenti cosa ne pensate voi di questa nuova gamma Galaxy e ovviamente restate connessi perché arriveranno le recensioni e tantissimi altri contenuti. Io vi saluto, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un bel like. Ciao!